Prosegue lo scontro politico-istituzionale tra Regione Abruzzo e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui fondi da utilizzare per la messa in sicurezza dell'autostrada dei Parchi, A24 e A25, inserita d'urgenza all'interno del decreto emergenze dedicato a Genova e al crollo del Ponte Morandi. Sul tema il MIT ha diramato una nuova nota con cui attacca la Regione citando una delibera dell'ente che autorizzerebbe il prelievo dei fondi FSC utilizzati per il Masterplan. Prima di parlare di scippo e stracciarsi le vesti in Regione Abruzzo dovrebbero rileggersi la loro delibera di appena tre mesi fa in cui si consentiva al MIT di avvalersi per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 in via anticipata di fondi FSC assegnati e non trasferiti in favore della Regione Abruzzo e che non possono essere oggetto di copertura di SAL entro il 31-12-2018 perché non riferibili a procedure contrattuali esecutive o in esercizio recita la nota del Ministero. Dunque secondo la struttura guidata da Toninelli sarebbe stato rispettato in pieno l'indirizzo regionale avviando subito gli interventi ormai improcrastinabili di messa in sicurezza delle arterie autostradali a rischio tellurico. Questo di Castero proseguì il MIT aveva già responsabilmente precisato come richiesto dalla stessa delibera regionale che i fondi sarebbero stati reintegrati entro i termini temporali dell'esercizio di bilancio 2018. La norma contenuta nel DL Genova con una copertura dell'intervento fissata dal MEF ha provveduto a utilizzare momentaneamente le risorse laddove c'è cassa ossia i patti territoriali e ha stabilito di rimodulare attraverso il Cipe il piano operativo FSC 2014-2020 che ha molti fondi in termini di competenza in modo da rifinanziare con somma analoga il Masterplan Abruzzo. Tuttavia continua la nota ministeriale per dare maggiore chiarezza al dispositivo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro per il Sud sono d'accordo nel presentare una modifica in modo da specificare che la copertura sarà individuata sull'FSC 2014-2020 tra le risorse che verranno reperite a valere sulle quote non vincolate nel medesimo fondo. Ribadiamo quindi, conclude il MIT, che il nostro intento è sempre stato quello di agire con risolutezza per affrontare un'emergenza lasciata senza risposte negli ultimi anni per colpa di incuria e incompetenza a tutti i livelli di governo. Prese di posizione e toni allarmistici di questi giorni dunque non possono che suonare come incoerenti rispetto agli stessi atti adottati e soprattutto, conclude la nota, figli di una strumentalizzazione di chiara impronta elettoralistica.